Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 18 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Un lunedì a due marce. Mattinata con la marcia sbagliata, vale a dire la luna in gemelli pettegola allo Zenit, per giunta stimolando Marte nella vostra sesta casa riesce a veicolare un'emergenza di lavoro che naturalmente metterà in pista proprio voi, i più bravi di tutto lo staff. Un complimento sotto un certo aspetto, ma che fatica, oggi già non siete particolarmente in forma, alle prese con l'emicrania o un principio di raffreddore. Ci mancava anche questa. Nulla di bello neppure nel pomeriggio, anche se la bianca signora cancerina lancia segnali d'intesa, ma con i suoi protetti venere, il sole e nettuno in pesci voi avete poco da spartire, caratteri diversi con obiettivi incompatibili. Non sovrapponibili neppure i sentimenti in coppia, meglio che ciascuno faccia da sé, vorrà dire che avrà fatto per tre. Sconcerto, solitudine e tristezza, la coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Solitudine anche per i sindi che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Riuscirai a esprimere esattamente ciò che pensi. Se lavori in casa sarai facilitato. Chiarisci i malintesi in famiglia. Oggi un parente potrebbe chiedervi un aiuto, siate cortesi e non potendo cercate di spiegare bene perché siete impossibilitati. La famiglia risulterà importante. Inviti. Evita troppo fumo e alcol. Idee fisse. Sii più elastico. Rimanda agli decisioni importanti ma cerca di risolvere piccoli problemi. Se state pensando di prendervi un periodo di riposo fatelo pure ma scegliete bene le compagnie. Se vi apprestate a fare un viaggio cercate di prevedere ogni possibile contrattempo. Evita la pigrizia. Se desideri qualcosa, datti da fare con più grinta e non scartare nessuna ipotesi per ottenerlo. Cambiate look, trucco, cosmetici, creme per bellezza. Tutto andrebbe rivisto e dovreste decidervi per l'acquisto di prodotti di sicura efficacia e dagli ottimi risultati. Anche se spendete qualche euro in più. Armatevi di pazienza perché basta qualche altro sforzo e poi il peggio sarà passato. Più riuscirete ad allontanarvi dal vostro passato e a tagliare certi ponti, più vi sentirete liberi, nell'autentico senso della parola, di spiccare il volo verso orizzonti nuovi. Come si dice vi potreste ritrovare svegliati con il piede sbagliato, l'umore potrebbe non essere dei migliori e potreste avere qualche contrattempo che lo peggiorerà. Orizzonte dei transiti che appare molto sereno e positivo per quasi tutti i rappresentanti del vostro segno. Fanno eccezione i nati della prima e terza decade che devono tenere sotto controllo un po' di nervosismo. Il Sole, Venere, Saturno e Nettuno sono tutti e tre contrari. Mattinata col pensiero fisso al lavoro, se ci siete per turno o per fare un favore a qualcuno, ma potrebbe anche trattarsi della vostra solita previdenza. Pensate già all'agenda di domattina e a tutte le incombenze e gli incontri urticanti che vi attendono. Ecco come rovinarsi una lunedì che avreste potuto dedicare alla natura, ai vostri amati animali, a qualche bella mostra d'arte o semplicemente alla persona del cuore che non vede l'ora di stare un po' con voi in intimità. Parola di Venere e del Sole, romantici anche all'opposizione, non tanto in mattinata, piuttosto nel pomeriggio quando anche la luna, passata in cancro, si farà poetica e ricettiva. Amore ed Eros. Due amori nella vostra vita, il partner e il quattro zampe, tutti gli altri sono presenze sporadiche più o meno scomode, che nulla aggiungono, anzi qualcosa tolgono alla vostra serenità. La luna nel segno amico del cancro a partire dalla tarda mattinata, vi apre a questa lunedì che appare tutta da condividere con la persona amata. Sia che desideriate passarla in compagnia esclusiva del vostro amore oppure in armonia con altre compagnie di amici, illuminare delle emozioni, la luna appunto, vi concede un'armonia complessiva come non registravate da tempo. I single possono ottenere conquiste inaspettate, specie se appartengono al gentil sesso. Lavoro e denaro. Amabili i vostri cari che conoscendo le vostre mani d'oro vi chiamano per farsi fare tutti i lavori di ripristino o bricolage e poi poi. Non solo non vi rinfondono nemmeno i materiali, ma non vi offrono nemmeno il pranzo. Ecco cosa significa essere troppo disponibili. Non va meglio in azienda, tutti succhiano il nettare dove ce n'è. Senza preoccuparsi di ringraziare il fiore per quel dono gentile. Carini gli amici che cercano di trascinarvi in giro anche se le loro proposte al momento non vi interessano. Quali sono le doti creative, artistiche della Vergine? Per via del primo astro governatore del vostro segno, Urano, tutti i mestieri che richiedono una perizia artigianale, una buona abilità manuale. Proprio Urano nello schema dello zodiaco rappresenta infatti le mani nella corrispondenza col corpo umano. In seconda battuta, però anche l'attività dello scrivere, il giornalismo orientato sulla satira e sulla critica della società. Questa attitudine vi deriva dall'essere governati, in seconda battuta da Mercurio, il messaggero alato, Dio della scrittura. Infine il terzo pianeta presente in Vergine il Transplutoniano, battezzato Eulo, vi regala la capacità di precisione in ogni lavoro vi cimentiate. Benessere. Stati infiammatori e piccoli disturbi di circolazione, nulla di grave, ma per salutisti del vostro calibro suonano già come una tragedia. Lo stesso vale per lo starnuto tipico della stagione. Su via non fate tragedie, magari allo specchio oggi non siete un fiore ma con qualche cosmetico fai da te, attività che peraltro vi rallegra e rilassa. Domattina al lavoro ci andrete con una faccia splendente. Procurate che anche lo spirito sia sullo stesso binario. Per lei, non lo ammetterete mai eppure siete gelose della ninfetta che guarda elle vostro lui quasi fosse il principe dei mondi, anche se potrebbe essere suo nonno. Per lui, alla minima spia di malessere voi salutisti andate subito in tilt, domandandovi dove avete sbagliato, se nella dieta, nell'attività o negli integratori. Nulla di tutto questo, semplicemente il fisico parla, si vede che ha qualcosa da chiedervi o da esplicitarvi. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, piovigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.